Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi parliamo ancora una volta di stampanti 3D e vogliamo parlarvi sempre della Lotmax, la CH10 Ironbox, stampante a resine LCD che ci è arrivata da non molto tempo e quindi ancora una volta grazie di cuore alla Lotmax per averci fornito questa macchina appunto per farci questi video e la recensione che avete già visto. E parliamo di stampe, parliamo in particolar modo di resine, ma ve lo dico a breve dopo la sigla. Qui c'è un po' di cosine che ora poi vi andremo a mostrare nel corso del video. Questa, se vi ricordate, era la resina che è arrivata direttamente con la macchina, con la Lotmax. Questa è una resina gialla, molto liquida, che devo dire ha lavorato anche abbastanza bene, qui abbiamo una targhettina che abbiamo fatto direttamente con questa resina qua giù ed è un flaconcino piccolino che vi mandano con la macchina, la trovate nella stessa confezione della CH10 e sono 250 ml. È una cosina piccolina però giusta appunto per provare la macchina, quindi per fare subito le prime stampe. Comunque il video non è assolutamente dedicato a questa resina, che è una resina ragazzi di partenza, vi ricordate quella dell'Anycubic della Photon, quella verde traslucida, è una resina per fare delle prove e questo uguale, come abbiamo fatto la targhetta, paro paro senza supporti. Quindi sono di quelle che si attaccano bene sul piatto per fare cose che richiedono un pochino meno di supporti. Quindi non vi parleremo di questo oggi, ma di un'altra resina che vi consiglio da morire, che è una resina bianca a presa rapida, che ora la vedete qui in sua impressione, e potete acquistare direttamente sul sito dell'Anycubic. Costa in media sui 25-26 euro per 500 ml, qualcosa del genere, potente andate a vedere sul sito, ma comunque vi assicuro che è una delle resine migliori, perché dopo di quella c'è quella tipo ABS-like, tipo dura plastica, e questa non è una ABS-like, comunque è una presa rapida. Quindi veramente è uno spettacolo e le piccole cose che vi mostriamo ora, perché alla fin fine abbiamo fatto più che altro bigiotterie e cose piccole, sono state fatte con quella resina lì. Mi scuso direttamente per la luce, ragazzi, sapete l'illuminazione è un po' quella che è, spero che i dettagli si vedranno quanto meglio. Comunque vi facciamo vedere un po'. Questo video l'ho voluto fare perché diverse volte mi è stata fatta la domanda, anche e soprattutto su vari gruppi che gestiamo e pagine, ma qual è alla fin fine la resina migliore da acquistare? Ora, di resine ce ne sono 300.000, 300.000 marchi, anche perché anche la Lotmax stessa ha le sue, la Elego ha le sue, la Essence ha le sue, la Creality ha le sue, chiunque, o almeno nel 90% dei casi, chiunque ha la propria resina. Però noi ne abbiamo provate un bel po', a dire la verità, una decina, e a parte quelle, non mettendo in conto ovviamente quelle basi che ci hanno mandato, e quella con cui ci siamo trovati meglio è questa resina, ve l'ho detto, presa rapida, bianca, di colore, anche perché sinceramente abbiamo visto che i colori di resina che fanno vedere meglio subito a fine stampa, i dettagli sono la bianca, la grigia e blu celestina, insomma una cosa del genere, quindi forse sono anche colori meglio che dovete prendere, ed è questa qua. Ed è una resina che mi sento di consigliarvi subito perché attacca bene al piatto, quindi c'è già meno possibilità che si stacchi durante la stampa e cada il pezzo, reggono molto bene anche a certe temperature e ovviamente riesce anche ad arrivare nei dettagli più minuziosi e più piccolini, quindi potete creare comunque delle miniature per quanto piccole, ed è difficile andare nei particolari miniature piccole, però al massimo del dettaglio possibile. Insomma è la classica buona resina che se avete settato tutto bene, soprattutto con macchine che poi anche sono facili da settare come la Lotmax, non dovete assolutamente ammattire, fate la stampa, se il settaggio l'avete messo bene, la resina farà il resto del lavoro. Non è la miglior resina sul mercato, perché ci sono gli ABS like che secondo noi sono anche meglio, però lì io ho visto anche a volte per andare a prendere un litro 70-80 euro, ragazzi tanta 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 roba, questa si rimane più o meno sui 45-50, comunque qualità-prezzo di fascia medio, anzi di fascia medio-alta, secondo noi è una assolutamente delle migliori, quindi andate tranquilli, se la dovete acquistare, rapporto qualità-prezzo, vi ci troverete benissimo, e noi siamo già al secondo flaconcino che compriamo, perché ci stiamo trovando molto molto bene. È un tipo di resina che va sempre sciacquata con alcol isopropilico, se ce l'avete l'alcol bianco è difficile trovarlo, soprattutto noi li vuoi non si trova quasi mai. Comunque con alcol isopropilico va sciacquata bene, anche perché va sgrassata bene anche, perché rimane un po' piccicosa ed è un tipo di resina che appunto va trattata e lavata bene, se volete un tipo di resina meno tossica, o prendete quelle bio o prendete quelle a base di acqua, che sono più facilmente risciacquabili. Ragazzi, mi scuso ancora una volta, purtroppo l'illuminazione non ci si può fare niente in tutte le maniere. Questa qui è una miniatura, è il mago di HeroQuest, che abbiamo stampato ovviamente con la stampante la Lotmax a resina, ed è talmente piccolina che vedete come i dettagli sono più piccoli rispetto ai wargame di oggi, e il dettaglio è venuto perfetto, stampato con la Lotmax e soprattutto stampato con la resina bianca della Anycubic a presa rapida che vi stavamo dicendo. Guardate là il dettaglio, quindi è una resina stupefacente. Questi due anellini di Erendur, che abbiamo stampato, ora sicuramente il dettaglio si vedrà poco, anche perché sono veramente piccolini, comunque sono venuti, ragazzi, da paura, non ha perso un layer, non ha saltato un dettaglio. Spettacolo! Questo invece che è il pendente della scuola del lupo di The Witcher, che è fatto sempre con la Lotmax e la resina bianca presa rapida che vi abbiamo detto. Cioè, ragazzi, guardate là, cioè, bellissimo, veramente. Quello che vedete bianco a destra è fatto con la Lotmax, mentre invece quello che vedete dall'altra parte, accanto, grigio, a sinistra, sempre lo stesso pendente della scuola del lupo, è fatto invece con l'Anycubic, con la Photon. Quindi vedete anche la qualità e il dettaglio che queste due stampanti riescano a raggiungere, ragazzi, veramente, potete sbizzarrirvi a fare qualsiasi cosa da negozio e da vetrina. Questo, ragazzi, era un piccolissimo video. Ancora una volta per ringraziare la Lotmax che ci hanno mandato questa macchina, che è fenomenale, ragazzi, fenomenale. Qualità, prezzo, parliamo fra tutte e due. Sempre si va dai 300 euro in giù, anzi, praticamente dai 250 in giù la trovate in offerta, e sono, secondo me, il top della gamma che potete acquistare, precisissimo. L'avete visto voi il lavoro, quindi giudicate voi. Ma soprattutto, visto che tante volte ci hanno fatto la domanda, ma una resina buona da comprare, qual è? Quella che noi ci siamo trovati meglio è questa qui dell'Anycubic, presa rapida, colore bianco, grigio. Ecco, magari cercate sempre di andare in questi tre colori, bianco, grigio e celestino, che sono quelle che vi fanno vedere subito il dettaglio, appena praticamente è finita la stampa già pronta, potete già andarla a vedere. E, secondo noi, se vi possiamo dare un consiglio, è in assoluto la migliore. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento, se ci avete anche voi altre idee, perché ho visto, che stanno iniziando ad andare leggermente meglio questi video sulle stampe 3D, perché sono anche intervenuti diversi ragazzi, che se ne intendono veramente tanto, magari anche più di noi. Quindi mi piacerebbe anche creare una piccola community intorno a questo. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento, e ragazzi, ancora una volta ringrazio la Lotmax per averci fornito la loro primissima stampante LCD a resina, e grazie davvero di cuore, è un onore collaborare con voi. Ciao ragazzi, alla prossima!